Senti, hai citato Hillary Blasi, che tra l'altro ti ha citato nel suo film, documentario, come lo chiamiamo, non lo so. Diciamo che non mi ha citato nel suo documentario, mi ha chiesto scusa, ha chiesto scusa alla stampa italiana perché lei durante una puntata, secondo me fuori di testa, verissimo, ha cominciato a insultare il Corriere della Sera, la Repubblica, la stampa, un po' tutti quanti i giornali. E poi alla fine, dopo anni e anni e anni, ha dovuto ammettere, anche per convenienza, che avevo ragione. Cioè, quando io andavo a dire che Totti la tradiva sempre, il fatto di Flavimento, cioè non è che ero io che mi dovevo vergognare per aver tirato fuori una storia che era vera prima del matrimonio, io stavo facendo semplicemente il mio lavoro ed evidenziando delle cose, quindi per anni. Ora questa cosa quindi lei l'ha capita, si è trovata nelle stesse problematiche anche lei, e chiedere scusa a Corona, da un lato vuol dire chiedere scusa, da un lato vuol dire dare ragione, e quindi in una fase molto delicata, perché oggi vi spiego una cosa molto interessante, per questa puntata di Gurunandia, avere ragione anche da un punto di vista di problematica civile, perché ora c'è un processo. Detto questo, Ilari mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni, a breve faremo un incontro, chiarificatore. Cosa succede adesso? C'è un processo. Cosa ti ha detto, Ilari? Ma no, ma mi chiamava la sua manager che io conosco da vent'anni, che tra parentesi è, la conosco da venticinque anni, perché ai tempi lavorava con la Demora anche lei, ed è una delle manager più importanti della televisione italiana, perché è la manager della Unzinger, della Tofanini, è una donna molto importante, molto forte, con un carattere molto particolare. Insomma, mi chiamava, mi chiamava, io ho appena fatto un video, ho detto, che rottura di coglione, chissà che cazzo mi devi rompere. Insomma, tre, quattro volte, la quattro volta, e non gli rispondo, mi diceva, Fabri, ma mi vuoi rispondere adesso io? E poi ho detto, dai, poi beviamoci. E io gli ho risposto, va bene, dai, vediamoci, beviamoci un caffè. Va bene, dai. Allora, detto questo, in questa fase qui, sulla fase di Ilari, c'è una questione molto importante. Perché c'è un processo ora, a settembre? Giusto? Un processo da cui passano anche delle denunce penali, di furto, dei Rolex, delle borse. È un processo che deciderà tutto il patrimonio dei totti, vuol dire la casa a chi va, stiamo parlando di un patrimonio stramilionario. e anche un mantenimento. Giusto? Perché parliamo di un matrimonio di 22 anni che sono stati più insieme. La storia te la faccio in brevissima, perché è troppo complessa, parte dall'annuncio della separazione. Partiamo da lì perché sennò devi tornare troppo indietro, fino all'intervista del Corriere della Sera di Totti, di un anno fa, in cui lui dichiara che sta con Noemi Bocchi, che l'ha conosciuta dopo i tradimenti di Ilari, che ha scoperto i tradimenti di Ilari, che è stata Ilari prima a tradire, che gli ha rubato i Rolex, che è quella roba lì. E cita un ragazzo. Tra pareti mi ha tradito con uno, non mi aspettavo, sono rimasta scioccata, perché non c'entrava niente con la sua vita. Questo ragazzo è il ragazzo al caffè. Te la faccio in brev. Quindi poi litigi, poi lei sfrutta economicamente, ed è stata molto brava attraverso la sua manager, la tragedia, quello che ho sempre fatto io, quindi problematica, ha fatto i soldi con il libro, ieri c'è stata la presentazione, ha fatto i soldi con la serie, però oggi si ritrova in mezzo a un processo dove ci sono delle sorti importanti. Notizia di dieci giorni fa, questo ragazzo, che è un ragazzo molto schivo, che è un ragazzo del caffè, dopo un anno e mezzo rilascia un'intervista al messaggero. Al messaggero. Senza prendere una lira. Non è vero questo? Almeno questo è quello che hai detto. Senza prendere una lira dal messaggero. Ah, ok. Dopodiché compare nella lista dei testimoni di Totti. Esatto. Ah, verissimo, se vi avete fatto, avete guardato l'ultima intervista di Hilary Brasi, dove lei non è più allegra come era una volta, cioè non è più cacciar... cioè simpatica, romanesca, così, è molto triste, parla di amore, sulla risposta al perché questa persona qui ha rilasciato queste dichiarazioni, non lo accusa lei, non si arrabbia con lui, ma dice una cosa molto importante, dice io lo ringrazio perché lui e da una data nel mese di luglio da un locale a Ronin da un dettaglio preciso alla festa della mia manager, quindi dove erano presenti un tot di persone che sono come testimoni, mi ha raccontato che è A, B, C e D. Che tot di Mitra Diva? Questa festa è a luglio. Nella dichiarazione di Jovino, il ragazzo del caffè, lui dichiara che stanno insieme da luglio, prima di Noemi, quindi le due è l'unico modo che aveva per difendersi processualmente perché se questo ragazzo del caffè fa processo e dice sai io andavo con Ilari da luglio e lui non andava con Noemi, il processo è vinto, lei si deve difendere, tra parentesi pare che questo ragazzo come è uscito sul sito di Dillinger News abbia preso dei soldi da Totti per rilasciare queste dichiarazioni. Ma questo chi lo dice? Da dove si evince questa cosa? Se è una testata giornalistica, ripeto, Dillinger è una testata giornalistica, registrata al Tribunale di Milano. Ok. Ok. Punto. Vuol dire che hai delle responsabilità civili, legali, oggettive. Ok. le fonti per motivi giornalisti non possono essere rivelate, però abbiamo delle prove. Ora bisogna vedere poi noi diamo le notizie, punto. Poi chi vuole analizzare analizza. Comunque lei ha un solo metodo per salvarsi. Che sarebbe? Chiamare me il processo. Mi sembra un po' una guerra tra chi ha tradito prima chi una roba un po' così. È una roba molto triste perché poi alla fine di mezzo come in tutte quante le storie importanti ci sono i soldi e i soldi rovinano sempre tutto. Vabbè è chiaro. Poi ci sono anche tre figli di mezzo quindi immagino Ma i figli i primi due si fanno i cazzi loro. Cioè nel senso i primi due cioè il primo figlio Cristian che adesso va andato a giocare a Madrid è padre dipendente con un padre così figurati a Roma insomma stiamo parlando di Totti la figlia è padre e madre perché insomma Totti è Totti ragazzi cioè non è che gli dico niente si fanno i cazzi loro e si gestiscono la situazione forse è quella piccola che ne subisce però secondo me a loro non li tocca. Ok